Spostarsi nell'area nera rivela le regioni inesplorate. La minimappa mostra le aree esplorate e la schermata corrente. Un minotauro ti blocca la strada. Sconfiggilo. Il 4 settembre 2024 è uscita quella che per molti può essere un'attesa sorpresa di un titolo ai tempi tanto amato da aggiudicarsi il premio gioco dell'anno ed entrare nel top 10 dei giochi per computer fino al 2006. Uso attesa perché non è stato il primo capitolo della sua saga d'origine ad ottenere una versione remake remastered. Sia Age of Empires 1 nel 2018 che Age of Empires 2 nel 2022 hanno avuto la loro Definitive Edition rispettivamente al ventesimo e venticinquesimo anniversario, ma dato il successo anche di questo Age of Mythology non si è voluti far scappare l'opportunità di un ritorno sulle scene. Parlando della serie originale, questa viene lanciata in Europa nel 1998 riscudendo fin da subito un grande successo che si è poi visto schizzare alle stelle soprattutto grazie al secondo capitolo Age of Empires 2 The Age of Kings. Di ambientazione medievale e di solo un anno successivo. Se però tra il secondo e il terzo capitolo del sottotitolo Age of Discovery passarono sei anni, nel mezzo ecco che troviamo lo sviluppo e il rilascio di Age of Mythology che prese le basi della serie originale per svilupparle in un gameplay dai tratti nuovi. Un esempio fra tutti, l'introduzione di una nuova risorsa, il favore. Se nel primo Age of Empires le culture giocabili sono ben dodici, similmente al secondo in cui ne sono disponibili tredici, qui ci si concentra a buon motivo su tre, più una aggiunta nel DLC The Titans. Avremo infatti la civiltà greca, quella norrena, gli egizi e il più uno, ossia gli Atlantidei. In realtà nel 2015 uscì una seconda espansione, The Tale of the Dragon, con la civiltà cinese, ma che per il momento non è presente nella versione Retold. La prima differenza sostanziale in Age of Mythology Retold riguarda proprio il gameplay in relazione alle civiltà. Nella serie originale, per sviluppare ogni civiltà, benché con le proprie specialità e unità speciali, si può seguire lo stesso pattern adattato alle statistiche particolari che servono e in cui tutte le culture, con le dovute eccezioni, possiedono lo stesso tipo di unità che esegue uno stesso compito specifico. Un esempio sono i cittadini o abitanti, molto versatili perché i loro compiti riguardano raccogliere le quattro tipologie di risorse disponibili, quindi possono diventare raccoglitori, minatori, falegnami, allevatori e anche costruttori, perché saranno i responsabili della costruzione di edifici e case. Per tutte le civiltà i contadini funzionano lo stesso modo e l'early game che ne risulta è quindi molto simile per tutte le partite. Parliamo anche delle unità militari, moltissime delle quali specifiche per ogni cultura, come quelle di produzione esclusiva dei castelli. È proverbiale la potenza della cavalleria bizantina e i suoi cattafratti d'elite, oppure che possiedono dei bonus speciali o addirittura che non esistono proprio. In Age of Mythology Retold ogni civiltà si svilupperà in modo diverso proprio perché cittadini e unità sono diverse. I norreni non hanno costruzioni stabili come il mulino o la miniera per depositare i beni raccolti, ma utilizzano dei carri trainati da buoi mobili, che possono quindi spostarsi e raccogliere più tipi diversi di risorsa. Un altro tratto distintivo è che non solo gli abitanti, ma anche la fanteria, avrà la possibilità di costruire edifici. I cittadini potranno costruire case e buoi, mentre i guerrieri tempi e caserme per l'allestramento di altri soldati. Nella civiltà egizia molte costruzioni iniziali non avranno un costo, molte altre si baseranno sull'oro piuttosto che altre risorse, e richiederanno in generale molto tempo. Questo perché questa cultura possiede l'unità esclusiva faraone, che diminuisce il tempo di costruzione degli edifici e aumenta la produzione di un determinato edificio potenziato. Se poi i greci sono quelli con un pattern più simile a Age of Empires, senza differenze sostanziali, i cittadini atlantidei saranno veloci a costruire gli edifici, ma lenti ad essere generati dal centro città. Potranno però accumulare risorse istantaneamente senza doverle trasportare in un luogo specifico. In più potranno essere promossi a soldati a costo di tempo e oro, tratto condiviso con i norreni. Vediamo quindi come ad ogni civiltà si è combinato un tipo di gameplay e pattern di sviluppo diverso, che non riguarda solo statistiche e unità, ma proprio azioni che queste possono compiere. Una novità assoluta di Age of Mythology Retold rispetto alla serie originale è inoltre la risorsa favore. Durante la selezione della civiltà ad inizio partita dovremo scegliere anche un dio iniziale, tre per ogni cultura, più uno speciale norreno dell'espansione di Retold, che ci forniranno dei bonus speciali e abilità utilizzabili dentro e fuori dalle battaglie. Un fattore che sicuramente ha reso famoso questo titolo è stata appunto la componente mitologica, surreale e spettacolare, che l'utilizzo di divinità può dare. Terremoti, tempeste di neve, infestazioni di insetti e foreste a fuoco sono solo alcuni dei pirotecnici attacchi che potremo scagliare contro i nostri nemici e che possono risultare davvero game changers. Ad ogni passaggio di età ne sono presenti quattro. Dovremo scegliere ogni volta tra due divinità minori con le proprie abilità e unità speciali che modificheranno l'andamento dello sviluppo in maniere sempre diverse. Ogni dio minore sblocca anche un'unità speciale che combatterà il nostro fianco. Come sappiamo, gli dèi, molto similmente agli umani, sono capricciosi e richiedono un costo in favore per le loro specialità. Per questo ogni cultura ha un modo differente per guadagnarselo. Se per i greci è sufficiente costruire un tempio e mandare orde di cittadini a pregare, gli egizi ne accumuleranno costruendo più edifici possibili, per cui cinque esclusivi della loro civiltà. Oppure i norreni dovranno combattere per farsi notare da Odino e Thor. Infine, gli atlantidei dovranno esplorare con scout ed eroi. A mano a mano che si spostano, la loro divisione diminuirà, ma stando fermi si amplierà gradualmente fino ad un massimo, da cui poi comincerà a prodursi il favore. Un aggiunto importante per tutte le unità di esplorazione, sia di terra, sia d'aria che di mare, sarà la modalità autoesplorazione, che manderà autonomamente gli scout ad esplorare le aree intrise di Fog of War per trovare i nemici. Oltre alle novità di cui ho parlato, Age of Mythology Retold presenta delle differenze per quanto riguarda il bilanciamento generale tra le civiltà, importantissimo per il multiplayer. Un occhio per le navi e le battaglie nautiche, e il ruolo delle meraviglie rispetto alla versione del 2002, per la quale anche i giocatori e le giocatrici di vecchia data potranno apprezzare questo remake e divertirsi nuovamente. La grafica è stata rimaneggiata e modernizzata in alta definizione, risultando chiara, nitida e anche bella da vedere. Insomma, se da un lato potrebbe volerci un po' per capire e riuscire ad applicare le meccaniche di ogni civiltà e il tutorial di gioco è troppo scarno, tanto che non bastano solo di video e esplicativi delle diverse civiltà a far capire al giocatore o alla giocatrice cosa fare, dall'altro abbiamo un gameplay vario per ogni civiltà, e per ognuna occorre attenzione pratica. Abbiamo un ventaglio di unità disponibili ricco e differenziato e una nuova veste grafica che rende giustizia al gioco. Piccola parentesi, il coccodrillo che spara raggi laser è la cosa più bella che abbiamo visto. Age of Mythology Retold, quindi, ha fatto la storia e potrebbe farla ancora. vicino a quegli alberi.